Il settore energetico è in continua evoluzione e oggi l'Italia può ricavare una parte importante di energia da biogas e biometano, prodotti da biomasse e rifiuti organici, contando sulla seconda filiera più grande d'Europa. Alla ricerca di altre fonti energetiche, il biogas e biometano possono rappresentare alternative sostenibili prodotte in casa. Secondo l'Associazione Europea del Biogas, il settore del biometano sostituirà la fornitura del 20% delle attuali importazioni di gas dell'Unione Europea dalla Russia entro il 2030. Inoltre, entro il 2050, questo potenziale potrà triplicare, crescendo ben oltre i 100 miliardi di metri cubi. Per questo importante settore industriale, Rittal offre prodotti dedicati e la business unit Rittal Energy Power, nata nel 2020, è sempre più focalizzata a proporre soluzioni tecniche per la crescente richiesta del settore energetico e della sua sostenibilità. Con la pruriennale esperienza nel mercato dell'energia, la gamma innovativa di prodotti Rittal si può integrare con diverse tecnologie tipiche di questo settore. Ci troviamo su un impianto che produce oltre 7 mila tonnellate di biometano l'anno, prodotte da scarti di 120 aziende agricole, dove abbiamo fornito soluzioni e componenti a supporto dell'intera filiera di trasformazione del biogas in biometano. Partendo dalla fase di progettazione e pianificazione del sistema con il software Eplan fino alla scelta di prodotti standard Rittal, quali armadi, sistemi di distribuzione di energia, climatizzazione, anche questa applicazione è un esempio concreto di come Rittal è un partner strategico per i clienti che operano nel mercato energetico. Nella fase di progettazione dell'impianto di trasformazione del biogas in biometano sono stati utilizzati i software P8 e ProPanel di Eplan, mentre Repanel ha velocizzato la scelta dei prodotti da installare. L'impianto prevede quadri elettrici costruiti con armadi VX25, sistemi di ventilazione e armadi compatti AX. Questi prodotti sono stati scelti principalmente per il supporto in fase di progettazione, per gli elevati standard qualitativi, le certificazioni e la presenza internazionale. In particolare abbiamo utilizzato armadi di comando e di potenza VX25 realizzati con un profilo simmetrico che semplifica il processo di progettazione e di installazione sia di quadri di etimazione che di distribuzione elettrica. Un armadio sottoposto ad un processo di verniciatura in tre fasi che si conclude con un trattamento in nanotecnologie per garantire una elevata protezione dagli agenti atmosferici. Sistemi di ventilazione per garantire la corretta dissipazione del calore prodotto all'interno del quadro. I ventilatori utilizzati si installano con clip a scatto, garantiscono l'accessibilità dal fronte per l'operazione di manutenzione anni morsetti a molla e immettono aria in maniera tangenziale garantendo una maggior movimentazione dei flussi interni. La presenza del QR code del quadro elettrico permette l'utilizzo della tasca portaschemi Rital ePocket. Quest'ultima rappresenta l'evoluzione digitale del fascicolo tecnico del quadro. Attraverso l'area cloud di Eplan il quadrista salva la documentazione del quadro o dell'impianto così che il personale addetto alla manutenzione abbia accesso a tutti gli schemi e manuali sempre aggiornati.